Per quello che mi riguarda, fatti salvi tre o quattro ministri, questo non è un governo. Non voglio dirvi che cosa è, ma per quello che mi riguarda sarebbe cento volte meglio anziché avere dilettanti allo sbaraglio, avere un governo di unità nazionale, di persone competenti per bene, un governo del Presidente che non produca il caos che è stato prodotto in Italia dall'opportunismo politico e dalle scelte sbagliate fatte dal governo. Quindi ho voluto chiarire anche ad altri esponenti politici che per quello che mi riguarda la volgarità, lo sciacallaggio e la cafoneria sono incompatibili con rapporti di collaborazione e di governo. In queste condizioni è meglio mandare a casa il governo.